Al via giorno 3 agosto, sabato prossimo, la ventesima edizione della Sagra del Melone Giallo a Ioppolo Giancaxio, denominato quest'anno Nastri sotto gli Astri. Un appuntamento diventato fisso delle stati siciliane. Quest'anno la novità, la manifestazione si articolerà in due giornate. Sabato, nei cortili tipici e caratteristici di Ioppolo, lo chef Rosario Matina preparerà ognuno di loro un piatto tipico a base di melone. Sono due le novità. Uno è la riscoperta di questo territorio. Entreremo nel cuore di Ioppolo. Abbiamo allestito quattro cortili a festa e abbiamo appropriato la proposta gastronomica che fossero quelle di una volta. Quest'anno il tema è la Sicilia, il mare, le verdure e dunque il sabato per la manifestazione di Sapore a Melone ci saranno quattro identità salate e una dolce. La domenica ci trasferiamo tutti in piazza per onorare il ventesimo anno della Sagra del Melone di Ioppolo con il classico risotto, anche quest'anno abbinato al mare. Sì, questo è un bellissimo cortile di Ioppolo, devo dire quello che effettivamente piace più a me. Qui ci sarà la sarda di Colapisci. Che cos'è? È la nostra sarda alla beccafico abbinata a una panella e a una purea particolare di melone. Dunque aspettiamo i nostri ospiti qui in questo cortile meraviglioso, come potrai vedere, molto bello e caratteristico, per far assaggiare la nostra sarda di Colapisci. Quest'anno la Sagra è più ricca perché è in due giornate. La prima giornata c'è una degustazione itinerante, ci sono vari prodotti che verranno offerti e hanno tutti come base il melone. La seconda giornata sarà in piazza, ci sarà lo spettacolo musicale, ci sarà anche la degustazione del riso e di altri prodotti che verranno offerti da vari sponsor. Innanzitutto lo sponsor che ci offrirà il vino, uno sponsor che ci offrirà pure un amaro al melone e quindi la ventesima Sagra sarà più ricca rispetto agli altri anni e più varia. Ci sarà pure un evento prima della Sagra, è uno dei giorni dedicato a un evento importante. Sì, è un incontro alla violenza sulle donne, sarà il 1 agosto e il 2 agosto. Il rosso si indossa e non si versa, praticamente saranno coinvolte l'associazione antiviolenza di Agrigento, saranno coinvolte le donne di Oppolo e sarà la prima una camminata per le vie del paese, la prima giornata, mentre la seconda giornata sembra una camminata per le vie del paese in cui verranno proposte delle pièce in cui si metterà in evidenza tutte quelle azioni contro la violenza sulle donne.